Sono veramente soddisfatto di poter annunciare il corso relativo al linguaggio di programmazione Python. Il corso te lo presento in due modalità. Una di queste modalità la potrai seguire qui su YouTube e andando avanti settimana dopo settimana arriveremo fino alla fine del corso. L'altra modalità invece è quella che potrai seguire su Udemy. Qui sotto in basso nelle descrizioni ti metto il link per linkarti proprio su Udemy. Udemy avrà un costo però avrai il corso di Python completo dall'inizio fino alla fine quindi tutto quello che riguarda le basi del linguaggio di programmazione Python. Io sono Fulvio Mariola ho iniziato ad interessarmi di informatica da più di vent'anni e dal 2005 ho trasformato la mia passione da hobbista appassionato a un lavoro vero e proprio come professionista. Bene come vedi abbiamo mostrato come calcolare i minuti in 20 giorni. Facciamo un esempio e vediamo come calcolare i minuti anche in altri giorni. Ad esempio facciamo copia, incolla e vediamo quanti minuti potrebbero esserci non so in 40 giorni oppure in 65 giorni oppure in non so 130 giorni. Come vedi se eseguiamo la nostra applicazione qui vediamo i minuti che ci sono nell'arco di 20 giorni 40 giorni 65 giorni anche se non ho modificato tutto perché come vedi qui rimane sempre ripetuto 20 quindi dovremmo modificare anche questo. Quindi qui scriviamo 40 giorni 65 giorni e 130 giorni. Quindi in 40 giorni abbiamo 57.600 minuti in 65 giorni abbiamo 93.600 minuti e così via. Mettiamo che noi ad esempio vogliamo sapere non quanti minuti ma quanti secondi appartengono a 20 giorni. Quindi ovviamente dovremmo moltiplicare quanti secondi sono in un minuto. In un minuto sono 60 secondi. Quindi cosa facciamo? Copiamo 60 per tutte e tre le funzionalità e non sono più minuti ma sono secondi. Anche qui copia per chi ha il Mac command tenendo premuto command il tasto C e poi per incollarlo tenendo premuto command il tasto V. eseguo l'applicazione e ho di fatto quanti secondi ci sono in 20 giorni 40 giorni 65 giorni o 130 giorni. Come vedi la cosa è utile però ci sono delle numerazioni che sono ripetitive. Qui parliamo di una ripetizione numerica perché ogni volta io ripeto 24 per 60 per 60 oppure anche i secondi ogni volta ripeto secondi. Quindi sono delle cose ripetitive. Quindi dovremmo trovare un modo per non ripetere ogni volta queste funzionalità. E ci sono diversi modi nei linguaggi di programmazione differenti ma noi vediamo come funziona nel linguaggio di programmazione Python. Ad esempio vediamo che cos'è una variabile. Una variabile non è nient'altro un qualcosa, un valore che contiene altri valori e questo valore può essere ripetuto ovunque. Quindi iniziamo con una variabile quindi la chiamiamo secondi uguale. Quello che viene sempre ripetuto è 24 per 60 per 60. Quindi faremo 24 per 60. Di fatto abbiamo assegnato questa moltiplicazione ad una variabile e la variabile è secondi. O meglio la chiamo calcolo underscore secondi. Quindi mettiamola così che diciamo è più precisa. Allora cosa faccio? Vado a sostituire la numerazione con calcolo secondi. Come vedi questo è un altro vantaggio dell'idea di sviluppo. È lui che mi dice quali sono le variabili che già ho creato. Quindi qua ho scritto calcolo secondi. Come vedi se vado ad eseguire il programma non cambia. Quindi piuttosto che scrivere la numerazione ho scritto calcolo secondi. Quindi questo è l'aiuto che ci danno le variabili. In questo caso lo possiamo sostituire anche con gli altri perché lo possiamo utilizzare dove vogliamo. Una volta che l'abbiamo impostata e gli hai detto guarda che calcolo secondi è uguale a 24 per 60 per 60 lo posso utilizzare dove voglio. Eseguo e come vedi non è cambiato niente però il valore adesso è contenuto in una variabile. Calcolo secondi. Questo è avvenuto però in un linguaggio di programmazione python perché se fosse un altro linguaggio di programmazione magari sarebbe differente. Cioè ad esempio come come puoi vedere in java tu gli dovrai dire che tipo di variabile è. Ti dovrai dire se è ad esempio una int, se è un intero oppure se è una stringa. Diciamo che in questo caso in python in particolare nel linguaggio di programmazione python è python che già capisce che calcolo secondi è di fatto una numerazione quindi fa una moltiplicazione e in automatico mi dà il risultato. Possiamo fare anche nome underscore secondi e appunto scrivo secondi racchiuso da doppio apice perché se non metto il doppio apice mi sta segnalando un errore perché sono lettere. Quindi gli metto il doppio apice. Poi qui piuttosto che secondi metto la parentesi graffa come ho fatto qui in secondi però vado a scrivere nome secondi quindi qui inserisco nome secondi eseguo il programma e come vedi secondi viene scritto ugualmente perché l'ho inserito all'interno di questa variabile. Ma qual è il valore di questa variabile? Beh è veramente infinito adesso noi abbiamo appena iniziato abbiamo fatto una piccola applicazione un piccolo programma ma può essere utilizzato anche per programmi molto più grandi quindi di fatto la variabile è veramente importante e fondamentale. Quindi cosa faccio? La copio anche nelle altre. Control C nel caso di Microsoft invece Command C nel caso del MacBook della Apple poi quando lo incollo sarà Control V nel caso di Microsoft e Command V nel caso del Mac. Come posso scrivere di fatto le variabili? Beh le variabili non vanno scritte con caratteri speciali. In genere vanno scritte non solo in in Python ma anche in altri linguaggi di programmazione ci sono diverse modalità. Diciamo che anche in Java puoi utilizzare l'underscore che sarebbe il meno basso ma in genere viene utilizzato il camel case che è quello che può essere utilizzato anche in Python. Di fatto sta a te decidere quale utilizzare. Puoi utilizzare sia calcolo underscore secondi oppure il camel case ovvero ogni volta che cambio una parola dall'altra metto la lettera maiuscola quindi calcolo poi S maiuscola secondi. Come vedi tutte le altre vengono non vengono più tra virgolette capite perché calcolo secondi io non lo trovo quindi per eseguirlo dovremmo fare copia calcolo secondi e lo incollo dove ho inserito la variabile e come vedi funziona benissimo quindi posso utilizzare sia questo metodo che questo metodo calcolo secondi oppure calcolo secondi in quest'altro metodo è uguale. Ci sono poi delle parole chiave che non possono venire utilizzate perché sono riservate. Questo che vedi è una serie di parole chiave che tu non puoi utilizzare cioè non puoi chiamare una variabile con end o una variabile con assert o con black o con class. Sono parole chiave riservate quindi dovrei utilizzare un altro tipo di parole chiave. Io adesso lo sto scrivendo in italiano ma in genere andrebbero usate in inglese però al momento noi stiamo imparando quindi non ci interessa se le scriviamo in italiano in inglese. Se noi le scriviamo in italiano anche per capire meglio come viene utilizzato python. Vediamo un altro esempio come modificare il nostro programma in python. Ad esempio non so a un certo momento ci viene richiesto di non scrivere più i secondi ma vogliamo sapere quante ore ci sono in una durata di 20 giorni o di 40 65 o 130. Io che faccio? Semplicemente modifico la mia variabile e inserisco calcolo secondi uguale 24 quindi se moltiplio 20 per 24 otterrò le ore che ho nell'arco di 20 giorni quindi magari cambio anche il nome della variabile e la metto calcolo ore e sotto cambio anche variabile della stringa e metto calcolo ore nome ore e poi vado a modificare le variabili nome ore eseguo il programma e qui ho il risultato di quante ore ho nell'arco di 20 giorni o 480 ore. Ah come vedi come vediamo un piccolo errore perché ho lasciato secondi quindi nome ore e scriverò ore. Rieseguo il programma e come vedi adesso ok in 20 giorni ho 48 ore in 40 giorni ho 960 ore in 65 giorni 1560 ore in 130 giorni 3120 ore. Quindi di fatto abbiamo visto come le variabili possono contenere i valori che noi poi andiamo ad inserire. Quindi adesso abbiamo visto come all'interno della variabile posso inserire i valori che poi a me serviranno per leggere dal mio programma o dalla mia applicazione.